live aspetta siamo in live in live non so non mi sono truccata abbastanza secondo che il mio computer bradiposo decida di fare le cose per cui è preposto dai da internet internetificati dai forza allora secondo che vado a vedere in internet pardo maledetto ti marcisca ma non dirlo che se siamo in live i coprocessore ci sono le cose del crostronzata in live senza sapere di esserlo adesso vado su youtube youtubero youtubero ce la posso farcela oddio che cazzo è successo qua adesso questo computer avesse il dono della parola amici farei di quelle litigate no no data la natura di questa storia l'ascolto è vivamente sconsigliato a cacca cazzo gente con il parto facile che da questo momento smetto di essere rosanna per diventare lontana tu sei la parte in rosso la signora in rosso il signore in rosso eccezionalmente vestita di blu c'è il pigioma di pile sexissimo guarda che forte con i carcerati stavo come si scogliato una zebra diventano anche quelle ambientazioni psicadeliche alla van gog sottopiace il signor zang vu che lo facciamo così perché non ho la minima idea di come si possa pronunciare effettivamente quindi in cina quando una persona decide che basta non è più più si getta nel fiume nel fiume ballo è ok ci sono sì ci sono sì parlo con il signor zang vu aspetta aspetta ho pronunciato male ok va bene che essendo un po raffreddata sembro una che un po pianto e che culo ottimo vedi non tutto il male che internazio scusate sono una brutta persona però poi qui lo sai che a me più sporca è l'interpretazione è meglio è proprio buttaci secchiate di fango facciamo la sporca proprio vediamo ma che effetto tombale fisica coppia e ieri sera ho installato l'aggiornamento e non ci capisco la mazza sto mettendo in difficoltà ok no che rincoglionità che sono incolla che rottura di però quanto cagli il cazzo coso audacity spazio insufficiente per incollare la selezione ma perché mi devi rompere i coglioni così ma non ne ho idea questo cazzo di aggiornamento di merda mi stanno arrossando i bulbi delle orecchie però per il nervosismo quando succedono queste cose pulbi delle orecchie ok per restare in tema di dannunzio mi sale il macaco fisico fantastico meravigliosa quella cosa lì del macaco fisico la sono proprio appuntata dato questa qua non vedo l'ora di usarla vedo l'ora di litigare con qualcuno per dargli del macaco fisico per favore filmalo trovo il modo di filmarlo adesso mio figlio le darà i 300 yuan però aspetta non so come si pronuncia i cinesi scrivono una cosa si pronuncia al contrario certo che da 300 a 7.000 insomma è impazzito il pallottoliere sto qua però sottientese silenziosamente scritto in caratteri minuscoli sì come quando in dialetto calabrese una vuoi dare della puttana stano che ti trema la voce masticato tra i denti proprio evoca qualcosa che proprio una persona con cui vorresti non so ti trovarsi davanti la schiettrice di twilight ecco tutto quel disfretto io ti schifo proprio i tuoi vampiri luccicanti al blu ok ho tirato fuori tutta la calabritudine che c'ho dentro ok come quando da bambina mi rubavano la merenda perfetto stanza caro abbastanza mosoccazzidua è lo caso il locust locusta dell'inferno non so ho unito queste due parole non so quanto si effigate lo spero di sì tra l'altro fai una parte di tutto rispetto molti darebbero darebbero l'anima per fare questa parte wow sexy nefertiti troione tanto per cambiare bellissimo grazie mi diverso a fare i troioni e ce lo dico lo dico sempre ok il troione mi è venuto al primo colpo ok quando parlo con i miei stalker insomma quel cosino ho imparato questi due anni di stalkeraggio no non è questione della fretta che essendo rimbambita poi va a finire che mi dimentico passano settimane per un minuto di registrato ok io devo termino la registrazione perfetto non so dove la salverà però non so dove la salverà non